E' stata inaugurata a Cosenza l'iniziativa promossa da Conf Commercio che in occasione delle festività natalizie trasformerà Corso Mazzini in una vera e propria galleria d'arte all'aperto e con i dipinti di Franco Azzinari esposti nelle vetrine dei commercianti del Corso Cosentino, un'idea a frutto di una fortunata intuizione di Francesca Mirabelli Giordano. E' un'arte che chiunque la può leggere, è un'arte nostra contemporanea, è un'arte che parla dei momenti della vita quotidiana della Calabria, è un'arte semplice, è un'arte arcaica quella del maestro Azzinari e l'idea di portare Azzinari erano le due cose che sposavano bene perché uno rappresentava la Calabria come personalità storica, artistica e figurativa delle opere e due siamo nel centro del cuore della città dei Bruzzi, Corso Mazzini. Una mostra sui generis che vedrà esposte oltre 100 opere su tela del maestro Franco Azzinari nei negozi del centro di Cosenza fino al 10 gennaio 2016. E noi ci dimentichiamo che Cosenza è una grossa città d'arte, noi abbiamo parecchie opere sia architettoniche sia pittoriche nella provincia e portare Azzinari nelle vetrine era portare questa ventata di questi campi, di questi prati, mossi da questo respiro del vento del maestro e volevo far partecipare a tutti i concittadini, a tutti i calabresi, a tutti i cosentini, mi auguro che verranno anche persone di fuori a visitare e a valutare queste opere perché sono meravigliose. E poi un altro intento proprio a livello artistico, perché io sono un'appassionata di arte, è quello di non vedere più l'arte chiusa nei musei sotto luce artificiale, stereotipata, magari con delle file assurde, non potersi gustare il quadro dal vivo, proprio l'opera dal vivo, quello di metterla esposta fuori, dentro una vetrina di un negozio, e vedere l'arte nelle 24 ore sotto tutti i punti di vista e sotto tutta la luce immaginabile possibile, luce notturna, luce artificiale, luce del sole.